E mi raccomando, un parroco che abbia una morale inflessibile, un'etica cristallina, uno che sappia riconoscere le tentazioni del diavolo al primo sguardo. Il diavolo è ovunque, quindi che sia anche, che ne so, un mezzo esorcista. E ovviamente, per tutte quelle questioni lì, le coppie di fatto, uomini con uomini, donne con donne, insomma, per carità.